C'hai figo? Ancora con ste figo? Ma sei antico tu. Ma qui l'album non lo fa più nessuno da anni. Ah sì? Io ho continuato a farlo. Che cazzo sei fuori. Ciao ragazzi. C'è una siga? Come c'è una siga? Eh, per fare quattro tiri prima di addentrarsi alla prova. Arrivi mezz'ora in ritardo e manco ti compri le sighe. Eh, ma perché dovevo parlare con mia madre che mi dice che mi fai culo perché dici che non c'ho mai soldi. Eh, ma per forza! Li anticipo sempre a voi. Scusa, ma te scusa, ce l'hai? Il decca dell'altra volta? No, il decca dell'altra volta è un cazzo. Abbiamo dovuto comprare le bacchette. E te le ho comprate io? Abbiamo dovuto suonire tu la batteria. Questo c'entra. Io ho le spese, è un investimento. Le bacchette costano. Sì, perché le chitarre me le regalano. Ho capito. Lui arriva e canta. Cosa gli costa? Eh, allora a me compri le caramelle. Per la voce. Eh, scusa. Vabbè, dai. Ragazzi, facciamo sta colletta. Io c'ho un minassegno. Ma come minassegno? Bancolariano. Vabbè, ti va bene perché faccio la collezione? Che è il BPM. Io oggi c'ho 5 centesimi. Io c'ho quella del Bancolariano. Ma io c'ho la mancetta, ma non la voglio mettere tutta. E vabbè, chi paga questa ora? Oh, fai poco. Non ce l'ho! Vangoni! Dai, sentite. Allora pago io con un minassegno della banca del seme. Ragazzi, siamo in ritardo. Andiamo che quello finito l'ora ci manda via calci. E vabbè, allora oggi facciamo i LED. Iniziamo con i LED. Ma io ho tirato giù i dip. E vabbè, piacciono i LED. Te l'avevo detto l'altra volta. Ma non possiamo fare il cocaine? Che è facile. Dai, facciamo il cocaine. Che se no, sempre i LED e sempre i dip. Ma i LED sono quelli luminosi? Ma... Ma fai a cagare, vai! Cazzo, dobbiamo cambiare il tastierista. Sì, ovviamente. Questo è fulminato. Il cocaine che arriva? Tutto è bella tutta. Senti. Senti.